La Camera Penale dell'Aquila aderisce convintamente ed in modo massiccio all'assenzione proclamata dall'Unione delle Camere Penali dal 30 novembre al 4 dicembre prossimi. Tra le rivendicazioni delle Camere Penali, l'intenzione di contrastare l'estensione dello strumento del processo a distanza, evitare l'ulteriore spettacolarizzazione dei processi che hanno come solo obiettivo quello di consegnare all'opinione pubblica giudizi preconfezionati, procedere a una serie ad organica riforma del processo penale in modo di dare effettiva attuazione al precetto costituzionale del giusto processo, giungere a una seria ed effettiva riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, scrivere regole rigorose che limitino il passaggio dalla magistratura alla politica e all'amministrazione e razionalizzare, meglio dislocare, le risorse in modo tale da porre rimedio allo Stato collasso in cui versano gli uffici giudiziari che provoca un insopportabile vulnus al diritto di difesa. Grazie. Grazie. Grazie.